Ciao a tutti ragazzi, è un nuovo video, oggi facciamo un video nuovo, sono emozionato, un video mascolino, un video potente, un video di quelli con l'estrogeno a palla e anche se qui di estrogeno c'è ben po' il muscolino, tra cibi, infatti vengono a rimetterti in forma, infatti sarò un video in cui mi rimetterò anche in forma nei primi mesi perché c'è da lavorare, ma quindi il video si farà perché sto divagando, si farà di palestra in casa, l'esercizio in cui andremo a rimetterti in forma indoor mi piace, mi gusta, voglio farlo questo video qua, sono gasatissimo, ma non faremo solo palestra sempre perché lavoreremo sull'equilibrio comunque questo è un canale di pattinaggio, quindi proveremo questo esercizio qui nuovo, molto molto arido, lavoreremo con degli equilibri e lavoreremo con degli esercizi muscolari diversi dal normale, ma quindi questi video servono solo per chi sta pattinato, per chi vuol migliorare no, servono per tutti, tranquillo lì se sei lì sul divano puoi farli anche te, ovviamente ci sono canali migliori di questo, trattano i fitness io non sono un esperto, però ecco, se riesco a motivarvi, ma soprattutto a divertirvi, sono già felice quindi, quindi, andiamo a zucco di questo discorso qua, cominceremo con una serie di addominali ok, metteremo dell'isometrie e dirà che una sfida, il mio polso è quasi immobile perché purtroppo non riesco a muoverlo ma io a fine video farò delle flessioni provate a scrivere sotto commenti quante flessioni riuscirò a fare, una, zero, cinque o dieci vi dico che non è che prima ne facevo tante, quindi insomma non sparate cinquanta perché non ne trovo sicuramente con questo braccio se ne faccio uno è già un miracolo ma non perdiamoci in ciancia perché adesso cominceremo sotto con dei belli addominali partiremo con un addominali in serie, faremo addominali per iniziare in serie da dieci perché insomma il fisico è quello che è però penso di farne quattro serie da dieci per poi andare a lavorare tutti i fasci addominali quindi pronti e andiamo a lavorare sul sedere proveremo quattro serie da dieci di questo addominali qua uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci ok? faccio due secondi di riposo mi è proprio velocemente, consiglio dieci secondi se siete proprio all'inizio io voglio masserarmi il bene e poi ho poco tempo perché non andrà a letto quindi sudate dieci, seconda serie uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci qua cominciamo a sentire un po' la fatica e un po' il due, aumenterò ancora nell'ultima serie e poi terrò anche un po' la posizione in estensione vado ok? uno, due, tre, tengo la posizione ok, quattro, cinque, sei, tengo la posizione sette, otto, nove e dieci l'ultima serie l'ho un po' sentita so proprio un pirla e una vera pippa ok? ma non lascio mi posare il pacco addominale perché lavoro gli addominali classici ok? vado giù, estendo poco e lavoro solo di pacco ok? uno due tre quattro sette otto nove dieci secondo esercizio con gli addominali lavorano solo la parte alta e durissima perché sono già pezzi e poi erano almeno due anni e non facevo addominale quindi voglio morire un'altra serie di questa ora rampio tutte le parti metto vicino allo sterno tirare su e lavorare solo questa parte addominale qua sono una pippa comunque ok? vuol lavorare invece con gli addominali ora laterali quindi metto in questa posizione qua ok? e vado a scalciare con questi addominali qui quindi faccio la parte questa fascia qua devo far lavorare almeno un quindice a gamba per due volte a gamba quindi trenta totali vado uno due tre quattro cinque cinque sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici perché cambio gamba quindi riposo non lo faccio perché il cambio è semplicemente lato voglio dire che ho la gamba dritta e vado a farne altre minici uno due tre quattro cinque ok ragazzi domani per oggi fatti non fatti benissimo ma mi devo rimettere in furbo quindi abbiate un po' pietà e non mi prendete in giro soprattutto e ma soprattutto andiamo a fare stati esercizi andiamo a fare la planca ok dovrebbe essere fatta con due mani io le faccio con una sola mano vediamo quanto riesco a fare spero di fare almeno 15 secondi e non sarà fatta correttissima perché comunque se avendo una sola mano d'appoggio non è che sarebbe il massimo a farla ma io vi voglio sfidare voglio provare a farla grazie per riportare un cazzino buzzolente in scena grazie 3 secondi 3 secondi fatta con un braccio solo speravo qualcosa in più in realtà però comunque se non volevo sforzare di più appena perché ero già in limite e proprio perché la posizione era secondo me un pelo scorretta mancando un rassetto con l'altro braccio ok ragazzi ora andiamo a fare invece l'esercizio di equilibrio parto con questo vediamo quanto riesco a starci se riesco a portare almeno un carrellino ok questo strumento vogliamo anzi di comprarlo perché migliora un sacco l'equilibrio quindi per pattinare è notamente molto comoda provare a pescadermi un po' provare a pescadermi un po' ok il carrellino e provare a starmi provare a farlo 3 volte ho toccato questo va in equilibrio sto scendo cosa non vale? ok questo vale non toccare bravo per l'ultimo ah non vale qui si fa i dettagli per il pattinaggio pipa faccio a terra le gambe almeno 5 volte 1 salgo 2 salgo 3 salgo 4 salgo 5 salgo mi riposo lo fuoco almeno gamba 5 volte l'altro lato ok parto 1 salgo 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 3 salgo 4 ok salgo 5 salgo ok sono stanco già le gambe a pezzi lo rifaccio però con soltanto 3 volte e faccio una da serie il 6 calma ha salvato perchè lo stacco morto ok vieni qua questo ho costruito proprio semplicissimo una tavola di legno e un perno che uso per fare per festeare la schiena ok questo è la prima volta che lo uso e l'ho provato un po' prima ma per vedere se funzionava non l'ho mai usato quindi verrà una schifo però proviamo parto 3 2 1 vado spero di salti almeno 3 secondi speranza molto difficile prima di quando va male ti provo va male ok ok questo da molto equilibrio lavoro un sacco di fasce muscolari credo faccia molto bene credo perchè altra volta lo faccio quindi sto veramente impazzendo andando a un lato per una altra volta ok non è facile partire però va bene vale ok ok qui devo migliorare tra molto però dai mi accontento ok ragazzi è stato momento di fare la sfida quante flessioni riesco a fare con questo braccio qua scopriamolo insieme è pensabile perché sia con questo braccio la faccio con un solo braccio io scommetto una figura di merda assurda direi che è penoso ma voglio esagerare queste sono per foglie ok 5 con questo braccio stra contento ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto iscriviti lascia un mi piace e io ti saluto sono stanchissimo mi devo rimettere in forma ragazzi ciao voglio vedere i video sui battini angel ciao ciao ciao